Salve amici e ben ritrovati sempre come al solito su Pausa Caffè Edizione Live. Un saluto a tutti da Max e parliamo di queste notizie che non sono molto buone nei confronti di Lavinia Mauro e Alessio Corbino, praticamente gli ex protagonisti di Uomini e Donne che hanno deciso di uscire insieme dal programma come fidanzati, quindi avere una sorta di futuro migliore e lontani dalle telecamere. Questa è tra l'altro l'unica relazione che è ancora diciamo in piedi nata grazie all'ultima stagione del dating show di Maria De Filippi, visto che tutti gli altri ex tronisti si sono invece lasciati. Ci riferiamo a Federico Nicoterra, Nicol Santinelli e Luca Daffré, ma adesso il peggio starebbe per succedere, purtroppo, anche a loro. Infatti, una segnalazione giunta su Lavinia Mauro e Alessio Corbino non sta facendo dormire suoni tranquilli al pubblico di Uomini e Donne. In particolare, sarebbe stato lui a non comportarsi in maniera impeccabile, stando ad una news diffusa da un follower su Instagram. I due diretti interessati tacciono di fronte a questi rumor, quindi al momento non è possibile capire se ci siano basi solide dietro queste voci o se invece si tratti di notizie prive di fondamento. E quello che è venuto fuori nelle ultime ore metterebbe a rischio la relazione sentimentale tra Lavinia Mauro e Alessio Corbino. L'ex tronista e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne sono stati beccati in posti differenti, quindi non sono stati insieme e lui si sarebbe anche dato alla pazza gioia. A rivelare tutto è stato un seguace dell'esperto di gossip a Medeo Venza, il quale ha poi reso pubblico quel messaggio privato ricevuto dall'utente. Ecco cosa è stato detto sul conto di Lavinia e Alessio. A me, ho scritto anche a Dejanira. Ti volevo avvisare che ieri Alessio Corbino stava a ballare a Caserta alla tenuta San Ferdinando, vicino la console. E nel frattempo Lavinia era scesa anche a Caserta, ma lui invece di stare con lei ha preferito andare a ballare, non calcolandola di pezza. E infatti Lavinia ieri sera era a Caserta con una faccia appesa a mangiare insieme alla madre da sola. E lui a farsi i cavoli suoi, ma che comportamento è? E il follower ha aggiunto, la tua ragazza viene nel tuo paese e tu vai a ballare? Amedeo Venza ha commentato così questa segnalazione, ma tanto lei lo giustificherà sempre. Quindi c'è stata una critica nei confronti dell'extronista di UED. Vedremo se i due rischiano davvero di lasciarsi oppure se tutto rientrerà in poco tempo. Spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.